Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori in questo video. Con grande dispiacere comunichiamo un grave lutto per il mondo del calcio. A 54 anni è scomparso Mino Raiola, il più famoso procuratore di calciatori. Nei giorni scorsi circolava la voce del decesso di Mino Raiola, poi smentita. Purtroppo oggi abbiamo la certezza che Mino Raiola è scomparso a 54 anni. Amici di Youtube, vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video.